Tre giorni a Capodanno, siamo in Piazza Fermo, abbiamo chiesto alla gente cosa farà per questo Capodanno 2024. Molti sceglieranno di stare qui, in Piazza Fermo, nel Salotto Buono della città, che dalle ore 22 si animerà di divertimento per piccoli e grandi, bambini, famiglie, ma anche ragazzi. Alcuni giovanissimi sceglieranno invece di passarlo in casa con i propri amici, quindi o la piazza o a casa, che sia un buon 2024 per tutti. Capodanno, che farai? Andrò in una casa con degli amici a festeggiare tutti insieme, costando l'uomo. Quindi una cosa tra amici? Sì, esatto. E la festa in piazza? Probabilmente un salto potremmo farlo, dai. Io andrò a casa mia amica. Cena tra amici? Io con lei, io con lei. Una festa in casa tra amici, sì, una cena. Cena tra amici. Molto tranquillo. Giorni a Capodanno, che farete? Eh, faremo Capodanno qui in piazza, a fermo. Anche con i bambini? Sì, anche con i bambini. Che vi aspettate? Una bella festa? Pensiamo di sì, speriamo, ma sicuramente se il termo ci assiste anche, come oggi, è una bella giornata. Saremo con Versano in Puglia, quindi casalinghi. Stiamo facendo un viaggio e ci fermeremo tappa in varie zone della Puglia e saremo tappa con Versano. Avete organizzato qualcosa? Avete una festa? No, no. Casalinghi, noi. Ecco, fra noi quattro. Viaggio così, tranquilli. Grazie, auguri. Grazie.